Sono mariti e compagni, ma anche padri e fratelli. Sono in sala, in cucina, in salotto, sono ovunque. Ovunque ci si aspetti di trovare sostegno e dove invece tante donne trovano botte, percosse, schiaffi, pugni, calci e anche la morte. La quasi totalità degli autori di violenza ha le chiavi di casa. Sono temi importanti quelli affrontati oggi nella prefettura di Chieti in un incontro organizzato nell'ambito delle iniziative della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L'elemento di grande visibilità è l'aumento quasi del 50% delle richieste di sostegno e protezione da parte delle donne. Questo però è un dato che dobbiamo imparare a leggere in senso positivo, perché vuol dire che è aumentata la fiducia che il servizio ha offerto in questi anni, anche grazie a momenti di sensibilizzazione come questo, e ha permesso alle donne di avvicinarsi verso un servizio che spesso anche viene visto come pericoloso, perché loro hanno spesso paura che sia il centro antiviolenza a fare la denuncia, cosa che ricordiamo non avviene. L'altro dato è quello della percezione che nelle fasce più giovani, adolescenti, che avvivono situazioni di controllo, che scambiano per gelosia, e che vivono situazioni anche di sottomissione che loro definiscono scelte, ma che in realtà sono comunque condizionate ad atteggiamenti di aggressione o di violenza. La gelosia viene legata sempre ad un concetto di amore. Se si riconosce che quella non è gelosia, ma è controllo, e allora ci si ferma e si cerca di riflettere perché da chi devo essere controllata. Noi come Ordine dei giornalisti, in occasione della giornata internazionale della violenza sulle donne, abbiamo richiamato i colleghi al rispetto delle regole per una informazione corretta e di un linguaggio continente e adeguato, che soprattutto protegga le vittime. Da una parte se l'è cercata perché vestiva così, perché faceva quello, perché faceva quell'altro, e dall'altra era talmente amata da... Ecco, infatti questi sono gli stereotipi. Un assassino è un assassino, non si uccide per amore. Ecco, l'importante è non riportare anche noi una parte di questi stereotipi e contribuire a, come dire, contrastarli, raccontando le cose, gli eventi e la cronaca nel modo giusto. È cambiato qualcosa in meglio nel mondo delle informazioni in questi ultimi anni? C'è più coscienza, consapevolezza? È una domanda difficile, perché si mettono in luce solo le cose che non vanno. Una parte della nostra categoria si muove in modo corretto. Purtroppo si parla solo dei casi negativi.